La più cordiale buona serata dal Palaravizza di Pavia, gli amici del basket sintonizzati, dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Olmia Pavia che riceve la visita della capolista, quindi match di cartello, quello che andrà in scena tra poco meno di tre minuti. Olmia Pavia contro Rucker San Vendemiano, Rucker San Vendemiano in testa praticamente dall'inizio del torneo, arriva qui in Via Treves con un poderoso record di 10 vinte e una sconfitta. È stata agganciata per il momento anche da Bernareggio che nell'anticipo di ieri è andata a espugnare il Cadesomenzi di Cremona e quindi ha affiancato in vetta al campionato gli uomini di Marco Mian. Pavia che arriva a questa partita comunque con una buona striscia di quattro vittorie in fila che l'hanno portata a quota 14, quindi quinta in classifica con sette vinte e quattro perse. Squadre radunate attorno ai coach. Oggi sarà il terzo anno per il Teddy Bertos, quindi al primo canestro dal campo. Poi c'è il lancio degli orsetti, orsetti che poi verranno raccolti e devoluti in collaborazione fra Omnia Pavia e Ryuken. Verranno poi portati ai bambini della pediatria del San Matteo e ai bambini del centro Paolo VI di Casal Noceto. Tutto pronto? Vicino a me come al solito in fase di commento abbiamo il collega Fabio Sacchi della provincia pavese e oggi ospite d'eccezione il nostro Marco Barzizza di Basket Dalla Media. Ora vi faccio salutare entrambi. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera grazie. Dopo questo po' di presentazione ovviamente ci aspettiamo fuochi d'artificio. Vediamo ora le scelte degli allenatori che hanno a disposizione tutti e dieci i loro effettivi. Non esistono problemi fisici, Pavia ha recuperato i giocatori più o meno acciaccati. C'è un problema alla caviglia, una scavigliata nell'allenamento, nella rifinitura di sabato per Nicolas Dessy. Baldiraghi andrà presumibilmente con i suoi pretoriani, quindi con Mattia Venucci, con Touré, Benedusi, Mirko Loria e il numero quattro sarà Alessandro Spatti. Vedremo la scelta di Marco Mian, ex allenatore di Filippo Fazioli nelle giovanili Benetton. Mianca ha una carriera abbastanza da cinema se ci passate l'espressione, visto che si è ritirato dal basket giocato a 26 anni ma in maglia Benetton ha vinto qualcosa come un campionato, una Coppa Italia, ha perso una finale di Eurolega e ha giocato al fianco di giocatori, giocatorini diciamo, Tony Kukoc, Vini del Negro, cosa di poco conto. Pavia è già schierata al centro del campo, vediamo ora le scelte del coach Veneto al secondo anno sulla panchina della Rooker. Normalmente parte con Tassinari, con Ricci, con Toniato, con Preti e con Vedovato. Vediamo Toniato, vediamo Preti, vediamo Tassinari in cabina di regia, vediamo Vedovato, vediamo Ricci. E quindi è confermate le scelte, anche Mian va con il suo quintetto garanzia. Sorrisi, abbraccio affettuoso tra Tassinari e Venucci, due giocatori che saranno presumibilmente al centro del palcoscenico. Tutto pronto, Paravizza ancora con tribune non totalmente aperte per i recenti problemi. In settimana sono arrivati dei lavori, contiamo che per il derby in calendario fra due settimane sia il vecchio impianto pavese che possa comunque presentare una degna cornice. Primo pallone gestito dall'Omnia e Venucci a occuparsi, difesa individuale per la capolista San Vendemiano. Ricci su Benedusi, si torna da Venucci che si prende il blocco di Gloria, va a attaccare il ferro, va a poggiare. Gloria sbaglia, Gloria che non riesce a tenere vivo l'imbalzo d'attacco, quindi sarà primo possesso per i bianconeri veneti. Tassinari che lavora in palleggio prolungato, va da Jacopo Preti che si giocherà uno contro uno, anzi ribalta il lato per Ricci che parte marcato da Tourette. Perde la maniglia, arriva la prima palla persa per gli ospiti. Pavia è ancora tutt'oggi la miglior difesa del campionato, San Vendemiano la quarta difesa del campionato. Venucci a superare metà campo, pallone per Momo Tourette che prende il blocco di spatti. Gloria va con, niente end off con Venucci, va con Tourette. Tourette che prova a attivare il collegamento con la rapitturata, c'è però il buon flottaggio e il recupero di Toniato. Tassinari una mezz'idea di sparare in transizione, invece ottimo l'innesco interno per Vedovato che però sbaglia e non riesce a tenere a rimbalzo. C'è un buon lavoro comunque in opposizione di Spatti. La transizione di Pavia, Tourette che va al ferro, sbaglia, rimbalzo dinamico però è presente Gloria, quindi extra possesso per Pavia. 8.48 ancora a reti bianche, come si diceva tutto il calcio minuto per minuto almeno 20 anni fa. Spatti con palla in mano, torna fuori da Tourette, 5 secondi per chiudere il possesso. Tourette ancora una volta al ferro, va a appoggiare, va a analizzare e arrivano i pelucci in campo. Pioggia di peluche sul primo viaggio al ferro positivo di Momo Tourette. Noi ne approfittiamo ovviamente per un giro di tavolo qui con i nostri colleghi. Partiamo da Fabio, abbiamo visto comunque due squadre che hanno fatto un po' di fatica per segnare, abbiamo sottolineato in precedenza. Pavia è la miglior difesa ma anche San Vendemiano deve il primo posto anche a quanto era in grado di fare in retroguardia. È una squadra che morde parecchio e che poi dalla difesa costruisce molto in transizione in campo aperto. Sì, probabilmente hanno aspettato a segnare perché non volevano interrompere le operazioni. No, a parte gli scherzi, San Vendemiano è una squadra ovviamente che Pavia deve temere, quindi deve assolutamente giocare con grande attenzione, specialmente contro un avversario come Tassinari, prima di tutto, che abbiamo visto essere anche un ottimo difensore sulla palla e infatti si occupa di Venucci. Tassinari che è marcato in difesa da Benedusi, quindi primo scontro importante è questo. Sì, credo dal mio punto di vista che, insomma, conosco oggettivamente poco entrambe le squadre la situazione, però mi sembra che gli accoppiamenti difensivi proprio nell'uno contro uno possano fare la differenza perché diciamo che i migliori non sempre si marcano, quindi probabilmente questo cambio di accoppiamenti potrebbe alla lunga fare la differenza. In effetti Barzizzi è abituato a frequentare i parquet di Serie A, quindi ci ha concesso gentilmente, era buon pavese, è tornato nel parquet che ha calcato più o meno gloriosamente, ma glissiamo, glissiamo. Ricorda un mitico sesto posto nelle finali juniores. Torniamo in collegamento con Venucci che attiva Spatti, che rinuncia l'uno contro l'uno, torna fuori da Tourette, marcato da Toniato, ora il cambio difensivo. Tourette fa una gran cosa in slalom e va ad appoggiare il 4-0 per il vantaggio interno. 7.50 da giocare per andare al primo pitstop, l'end-off tra Preti e Ricci. Preti che prende un colpo fortuito da Spatti, Ricci che lavora in palleggio, c'è il cambio difensivo. Toniato raccoppiato a Benedusi, sotto da Vedovato, che prova a giocarsi l'uno contro l'uno sulle tacche, lavora col perno e va a realizzare, giocatore di grande sostanza, magari non bellissimo da vedere, ma veramente efficace, a rimbalzo in difesa e anche in fase di intimidazione, il primo stoppatore del campionato. Primi punti fatturati per la Rucker, 4-2 il vantaggio interno. Palla per Spatti, c'è il cambio difensivo, c'è il Ricci che va vicino all'intercetto. Ora Gloria, un tiro aperto dai 5 metri e il primo siciliano se lo prende, morbida l'esecuzione per il lungo di Piazza Armerina. 6-2 il vantaggio interno. Ma via che ha lavorato bene in fase di lettura sulle situazioni di cambio difensivo, ora il gran canestro di Jacopo Preti, giocatore che l'anno scorso, insieme con il nostro vasello, fece davvero stagione da primatore, fu una delle chiavi della grandissima stagione di San Miniato. Palla per Mirko Gloria che può attaccare, lavora in avvicinamento, va ad appoggiare, sbaglia. Rimbalzo controllato da Vedovato. Rucker che può partire, ma via che è estremamente attenta nella transizione difensiva, cercare di non concedere il campo aperto. Tognato che si prende una forzatura a centro area sulla buona difesa di Benedosi e sbaglia. La via che può ripartire. Venucci che perde la maniglia e ora c'è la transizione di Tassinari che va a spaziarsi in arco. Sbaglia da tre punti, Venucci che combatte e c'è il fallo dell'ex giocatore di Crema, Luca Tognato. Primo fallo per Tognato, primo fallo di squadra anche per la capolista Veneta. 6-11 per andare al primo pitstop e noi andiamo in cronaca con Fabio. Sì, Paolo ha ricordato molto bene un giocatore come Jacopo Preti che nella partita contro Padova è stato decisivo. Quindi altro giocatore da tenere d'occhio. Nel frattempo il secondo fallo di Tognato che viene sostituito in questo momento dal numero 8 Rossetto, capitano della squadra, ora rimessa affidata a Momo Tourè che aspetta l'uscita di Spatti che riceve. Ora Venucci sul blocco di Gloria, Benedosi scarico per Spatti che proverà l'uno contro uno proprio contro Jacopo Preti. con la mano sinistra, molto bene Alessandro Spatti, 8-4 in questo inizio di gara per Pavia. Tassinari aspetta l'uscita proprio di Rossetti, Rossetto, Vedovato in punta per Ricci, ottimo l'assist sotto per Tassinari, bellissimo l'assist del numero 7 in maglia nera e due punti proprio per Tassinari, Venucci sul blocco di Gloria, la tripla però è fuori, allora rimbalzo di Ricci che porta la palla nella metà campo offensiva dell'avversario, aspetta il blocco, attacca subito in uno contro uno, Vedovato però recupera il rimbalzo e Rossetto da tre punti non punisce Pavia, Gloria apre subito per Venucci, ritmi che si stanno alzando vertiginosamente, ancora Gloria, ritrova Spatti, è il suo tiro ma sbaglia anche lui, ora una serie di errori da entrambe le parti, Ricci in uno contro uno proprio contro Spatti, fallo di Spatti, dicevamo ritmo forsennato, ritmo sostenuto che piace molto alla squadra ospite, che vive di contropiedi e fa anche ampio utilizzo del tiro perimetrale, come abbiamo visto in queste azioni, esce nel frattempo Spatti, entra proprio Nasello che si andrà ad occupare del suo ex compagno di squadra Preti, rimessa affidata a Tassinari, riceve Vedovato che riconsegna Tassinari, blocco di Vedovato, mamma mia, Tassinari fa una cosa davvero incredibile, spezza il raddoppio e va a depositare i due punti per l'otto pari, Venucci aspetta l'uscita di Tourette che riceve in questo momento, aspetta a sua volta l'uscita di Beneduzzi, palleggio del suo tiro, anzi passaggio dentro per Nasello che gli riconsegna palla, sbaglia però il tiro Beneduzzi, allora Tassinari può distendersi in contropiede, passaggio dietro la schiena per Ricci e Herbol da tre punti. Come dicevamo prima, gli ospiti tirano molto da tre punti, questa volta però un tiro un po' troppo affrettato, la palla comunque rimane agli ospiti con la rimessa affilata a Tassinari che butta però il pallone e infrazione di campo per Bavia che avrà di nuovo la palla per ritornare in vantaggio. Tifosi della tribunetta scatenati in questo momento. Otto pari con 4-18 ancora a giocare in questo primo periodo, Beneduzzi si affida a Nasello, palla a Touré, palleggio del suo tiro di Momo Touré, anche questo fuori misura e allora rimbalzo di Vedovato che consegna a Tassinari. Marcato in questo momento da Beneduzzi, blocco proprio di Vedovato, Tassinari ancora per Vedovato, riscambiano i due e fallo di gloria. Ecco Paolo, abbiamo visto in questa fase un ritmo molto elevato come piace agli ospiti, e soprattutto tanti tiri da trappunti, poi non sono entrati però questa è la partita che vuole fare la Rooker. Sì, Paolo deve stare molto attenta anche perché Sanve con un giocatore come Vedovato davvero sta spazzolando i tabelloni e poi è pronta a ripartire, quindi deve essere sempre molto attenta anche nel momento in attacco in cui va al tiro a essere comunque pronta a bilanciare. Ora, Gran Canestro di Ricci e primo vantaggio ospite, sorpasso 8-10, 3-41 per chiudere il primo periodo. Veneti che mettono per la prima volta la testa avanti, ora Touré che va deciso al ferro e farà una gran cosa. Sesto punto per Momo Touré sui 10 di squadra. Fabia che sta cercando di allargare il campo e di lavorare molto in situazioni di uno contro uno. Ricci la ricezione, una mezz'idea da attaccare dal palleggio, Touré riesce a recuperare, c'è il tentativo di Menedusi che fa una gran cosa. 9 secondi per chiudere il possesso, Palla Vagante se ne è in possesso a Tassinari, che va da Ricci che spara da tre punti, ancora una volta corto, sbaglia. 0-4 da tre punti per la Rooker. Lo vedo che può andare in transizione, ma c'è il buon rientro, c'è il fallo di Gatto. Buon lavoro sul perno di Nasello, che va preso una ottima linea di fondo. Cambio per Baldiraghi, fuori Mirko Gloria, torna Alessandro Spatti. Baldo che cerca di andare con la coppia di lunghi più dinamica a sua disposizione. La rimessa di Venucci per Momo Touré, marcato da Ricci. L'uscita di Venucci faccia a faccia a Tassinari. Palla alle mani del giocatore di San Vincenzo, che con lo step back si costruisce la triple e la mette. Nuovo sorpasso di Pavia, avanti 13-10 con questa invenzione di puro talento di Venucci, che ora va a difendere forte in anticipo per negare la ricezione a Tassinari. Vedovato con palla in mano, Venucci che va molto generosamente a cercare la difesa anticipo, spende il fallo. Quarto fallo di squadra per Pavia. Cambio fuori Vedovato, rientra Jacopo Preti e per i minuti di campo, anche per il numero 12, Tognacci va a prender fiato Ricci. Quindi ora tonnellaggio ospite che si abbassa, quindi sono squadre con lunghi atipici anche la scelta di Mian. Ora il cambio difensivo c'è Vedovato, scusate trovato sottocanestro Gatto, finta, tour è sulla finta, c'è il fallo fischiato al giocatore di Angera. Pavia che va in bonus e minuto di sospensione chiesto da Baldiraghi sul 13-10, 2-20. Andiamo a fare altre due chiacchiere. Marco, cosa ne dici di questo avvio? Tu appunto che conosci meno il campionato di Serie B però sei arrivato comunque preparato su quello che è lo score, anche il momento tecnico delle due squadre. Sì, sì, assolutamente. Mi sembra come dicevate voi giustamente prima che il ritmo sia molto alto e adesso a differenza di quello che avevano dato all'inizio si sono accoppiati i venucci e i tassinari e mi sembra veramente una bella sfida. Prima sul canestro, sull'invenzione da tre punti di venucci, i tassinari gli hanno dato una botta come per dire bravo. Vuol dire che sono due giocatori che comunque si riconoscono, riconoscono la propria forza, la propria leadership avversaria, avversa in questo caso, ma mi sembra che sia in generale comunque un ritmo molto molto alto perché sta difendendo molto bene, ha costretto un paio di perse abbastanza facili perché riguarda poi l'attacco avversario quindi sta difendendo bene. Certo è che chiaramente San Venemiano si presenta qua con i galloni della capoclassifica quindi ovviamente il lavoro duro c'è la Pavia che deve aumentare ancora di più l'intensità difensiva per cercare di portare a casa questo successo. E un'occhiata ai tabellini, per Pavia sono due di Spatti, tre di Venucci, sei di Touré, due di Gloria. Per quanto riguarda la Rucker sono quattro di tassinari, due di Preti, due di Vedovato, due di Ricci. Lunetta per Gatto. Otto punti otto per lui in campionato, giocatore prodotto della marca trevigiana. Va per il secondo, lo realizza. Tredici undici, quindi due di vantaggio per Pavia e ora Rucker che allunga tutto campo la difesa, vediamo poi come si chiuderà. con qualche patema, Pavia riesce a superare la metà campo. Ora Venucci con tassinari che rientra, ma Venucci lo punta e lo batte. La classica conclusione di Mattia Venucci di mano sinistra, va a realizzare quattro di margine per Pavia, quindici undici. Questa buona lettura. Tassinari ovviamente è arrivato leggermente fuori equilibrio, ora Tassinari si prende una tripla, la sbaglia, anche in questo caso il giocatore prodotto dalle giovani della Virtus Bologna, Venucci che attacca, scarica per Benedusi, Benedusi che rinuncia al tiro, torna da Mattia Venucci, accoppiato a Jacopo Preti, una mezzettina di sparare, fuori da Nasello, Venucci che penetra, prende il contatto falloso di Preti, quindi cambio per Baldiraghi, pronto l'ex capitano di Desio, Andrea Mazzoleni, fuori Benedusi, ovviamente sarà importante la gestione anche delle energie, la via sarà chiamata ancora una volta a una grande prestazione difensiva. fuori anche Tassinari dentro il numero 3 Durante, in bonus anche San Vendemiano, quindi dalla prossima saranno tiri liberi per l'Omnia, 1.35 da giocare, vanno le mani di Benedusi, l'uscita forte di Gatto, si torna dal regista toscano che prende il blocco centrale di Nasello, che riceve nel pitturato, una mezzina da attaccare, prova l'extra pass, spatti, non controlla e arriva la palla persa, palla persa numero 3 per la banda Baldiraghi, entra Pippo Fazzioli per Venucci. Pippo Fazzioli che è stato allenato nelle giovanili di Benetton Treviso da Marco Mian e che ha iniziato la carriera diciamo nei campionati senior proprio a San Vendemiano, quindi è l'ex di giornata, Preti che si prende una tripla forzata, la sbaglia, rimbalzo controllato a spatti, un minuto, brutto il passaggio d'uscita di Touré, Fazzioli che non si accorge di dare il compagno, quindi arriva la quarta palla persa, questa abbastanza sanguinosa per Pavia. Ultimo giro di orologio che si inaugura in questo momento con il palleggio di Durante marcato faccia a faccia da Fazzioli, Pro Durante il Touré che accetta il cambio difensivo si torna da Tognacci che attacca Fazzioli, c'è il fallo piuttosto evidente per il giocatore trevigiano, qui saranno due tiri liberi a disposizione di Tognacci. segnalato numero 33 Fazzioli, primo fallo primo fallo per Pippo Fazzioli, lunetta per Tognacci, Rucker che di squadra viaggia con il 70% dalla linea della carità, sbaglia il primo tiro libero Tognacci, va per il secondo sbaglia anche il secondo 50 secondi a disposizione per chiudere per bruciare questo primo periodo rimbalzo controllato da Mazzolini panna nelle mani di Momo Touré su di lui l'uscita di Gatto Momo che ancora una volta cerca l'innesco interno per Spatti c'è la deviazione della difesa che è messa in zona d'attacco per i lupi di Pat Baldiraghi sarà Pippo Fazzioli ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco il movimento il taglio di Nasello si apre Spatti che riceve in questo momento torna da Touré 36 secondi per andare a chiudere Touré che si prende il blocco si prende la soluzione da tre punti e la mette gran partita di Touré 9 per Touré 18 per Pavia quindi esattamente il 50% fatturato dal giocatore del 92 7 di vantaggio massimo margine per Pavia 16 secondi ora serve una buona difesa Preti che punta Spatti perde la maniglia poi torna in controllo chiude il palleggio si va da Ricci e ora arriva la super difesa di Pavia 6 secondi Nasello in contropiede affida Mazzoleni che va in sottomano reverse sbaglia arbitri che non fischiano niente si finisce qui primo quarto che si chiude sul 18-11 7 di vantaggio per Lonia Fabio abbiamo chiamato una buona difesa è arrivata l'ennesima buona difesa Spatti che ha contenuto Preti poi c'è stato comunque uno tuffo a recuperare il pallone quindi Pavia che comunque da quel punto di vista davvero sta viaggiando su un binario molto molto consolidato si è l'atteggiamento come al solito che diciamo che fa la differenza in particolar modo anche l'attacco è andato molto bene abbiamo visto Venucci e Touré prendersi delle penetrazioni con grande convinzione poi Touré ha segnato anche da tre punti abbiamo modo di vedere fa la differenza anche faranno la differenza ai lunghi perché ovviamente gli ospiti sono ben strutturati sotto quel punto di vista una nota a margine il fatto che Tassinari abbia sbagliato tutti e tre i tiri tentati dalla lunga distanza lui che viaggia col 23% da tre punti 13 su 56 per la precisione quindi questo potrebbe essere un fattore per Pavia che può sfidarlo da tre punti visto che in penetrazione è sempre molto bravo anche a trovare assist per i compagni sì assolutamente credo che una cosa che potrebbe fare la differenza saranno anche le rotazioni perché Pavia mi sembra comunque una squadra abbastanza corta Baldiraghi comunque già gira sempre i suoi uomini è sempre stato un allenatore del genere avendocelo avuto tra l'altro io come allenatore quindi ne so qualcosa San Emiliano probabilmente ha qualche rotazione in più quindi diciamo che alla lunga potrebbe potrebbe ovviamente far fronte a questa necessità in maniera più anche arrivando un po' più fresca in fondo quindi chiaramente anche a maggior ragione che Pavia sta molto giocando sull'uno contro uno quindi si sta sforzando parecchio anche all'andare dentro ovviamente l'aspetto di quanto poi ci si possa ruotare quanto si possa avere arrivare freschi in fondo possa determinare poi come andrà a finire ecco Paolo Mian che tra l'altro si è giocato la carta della zone press Pavia è riuscita con qualche difficoltà a batterla magari la vedremo più spesso nel corso del secondo quarto può essere sicuramente una variante tattica dipenderà anche dalla confidenza che Pavia prenderà ovviamente con l'arco dei 6 e 75 Valiaghi che ripropone ancora Fazioli Touré ovviamente in assoluto gas Mazzoleni Spatti e Nasello a presidiare il pitturato Corattognacci marcato con grande pressione da Momo Touré arbitri che fischia non fa lo Momo che come sempre con estrema serenità alza il braccio accusandosi del fallo e il secondo fallo per Touré che mi è senza in zona d'attacco va nelle mani di Tognacci che lavora dal palleggio va per Durante che attacca il ferro scarica per la tripla di Rossetto aperto in arco sbaglia ottimo lavoro a rimbalzo di Spatti fallo inutile di Durante che si è aggrappato al braccio del lungo bergamasco quando era già in possesso in controllo del pallone primo fallo di squadra per San Vendemiano che ora vediamo come Fabio ha annunciato va ancora con la pressione a tutto campo vediamo se poi è una difesa che dovrebbe chiudersi poi in individuale cerco ovviamente di mettere qualche sassolino negli ingranaggi dell'attacco pavese ora gran smazzata di Nasello a premiare il taglio backdoor di Fazzioli primi due per Pippo Fazzioli e nove di vantaggio per Pavia 20 a 11 non si è bruciato il primo minuto di gioco in questo secondo periodo Nasello che ricordiamo nelle giovanili ha giocato la playmaker e questo tipo di letture ovviamente gli vengono abbastanza abituali ora altra palla persa con il tentativo di Nescolob il minuto di sospensione chiamato Damian che ha visto abbastanza non vuol consentire a Pavia di sgasare di scappar via Pavia che in questo momento sta comunque oltre a lavorare bene uno contro uno sta cercando di leggere abbiamo visto comunque il tentativo di andare a attaccare nel pitturato prima abbiamo visto diversi tentativi di passaggi interni ora è arrivato questa ottima lettura di Nasello a premiare il taglio di Fazzioli la classe di Nasello non la scopriamo di certo oggi e poi Marco prima ha ricordato delle rotazioni Pavia sta facendo bene un po' con tutti non sono entrati ancora adessi e liberati e botteri chiaramente però comunque tutti stanno dando il loro contributo e abbiamo sempre detto è fondamentale che tutta la squadra dia il proprio contributo dall'altra parte San Vendemiano sta facendo fatica non si è mai probabilmente trovata in una situazione del genere sotto 20 a 11 dopo il primo periodo bisognerà vedere se Pavia riuscirà a continuare a mantenere questa intensità ovviamente in effetti il vero cambio di marcia il vero cambio di passo di Pavia è arrivato nel momento in cui Baldiraghi è riuscito ad ottenere produttività allargata almeno su 8-9 uomini quindi squadra costruita per essere lunga è importante che tutti si sentano coinvolti oggi probabilmente De Sia avrà minutaggio ridotto proprio per quello che abbiamo ricordato ora nuovo accenno di Zone Press Pavia che riesce a superare la metà campo Fazioli che chiama la chiamata di Fazioli è pugno la ricezione di Mazzolini che lavora in palleggio va da Spatti l'end off con Fazioli qualche problema di Bo Landlin poi va da Touré 7 secondi per chiudere il possesso vediamo se Momo inventirà di talento sbaglia da 2 punti l'imbalzo controllato da Vedovato ora parte a tutta birra Tassinari poi torna fuori da Rossetto Momo Touré sulle piste di Andrea Tassinari reduce della vittoria in campionato l'anno scorso con Orzinuovi Tassinari che fa una magia poi però chiusa la visuale molto bene dalla difesa di Pavia e arriva un ribaltamento direttamente per la propria panchina quindi Pavia che sta producendo comunque un confortante sforzo difensivo 5 le palle perse per la Rucker fuori Tognacci torna Ricci palla nelle mani di Andrea Mazzoleni Bernasello molto fuori marcato dall'ex compagno Preti il consegnato per Momo Touré Pazzioli che lavora dal palleggio si prende una soluzione morbida da 2 punti e va a realizzare 22-11 4-0 il parziale in questi primi due minuti per l'Omnia che va a prendersi il nuovo massimo vantaggio Faziolli sulle piste di Tassinari c'è il raddoppio il cambio difensivo ora altra buona cosa di Mazzoleni che intercetta il tentativo di passaggio di Bedovato Asello che lavora in palleggio torna fuori da Faziolli 11 di margine per Pavia in realtà nell'unica sconfitta quella a Bernareggio ci fu un inizio del genere con Bernareggio che prese subito un larghissimo margine e la Rucker che non riuscì mai a rientrare ora buona iniziativa manca solo la finalizzazione Mazzoleni che si è preso una ottima linea di fondo e ha sbagliato la soluzione in sottomano rovesciato altro cambio Portegirevoli ovviamente in Casa Veneta torna Tommaso Gatto e Luca Toniato fuori Rossetto e Vedovato la ricezione di Touret si torna da Faziolli pronto sul cubo dei cambi Mattia Venucci c'è il tocco di piede sul passaggio interno di Mazzoleni per attivare spatti 7.21 per andare all'intervallo lungo minuti di riposo per Momo Turet che va in panca con un sontuoso 9 punti 3 su 6 da 2 1-1 da 3 punti parla nelle mani di Pippo Faziolli ora giocherà in guardia con Venucci a giostrare da playmaker soluzione che Baldiraghi ha mostrato diverse volte in queste ultime partite per sfruttare il momento di buona ispirazione offensiva del giocatore di classe 1998 ex della partita come abbiamo ricordato in precedenza proprio Pippo Faziolli occuparsi della rimessa la ricezione di Nasello l'end off con Venucci che torna da Nasello Mazzoleni ovviamente Venucci cercato insistentemente ora andrà a inventare Mazzoleni che mette palla per terra attacca scarica in angolo per la tripla di Faziolli che va a realizzare sullo scadere 3-5 dalla lunga per Pavia 7 di Faziolli grande impatto anche oggi per il playmaker che sente ovviamente in modo particolare la partita 14 di vantaggio per Pavia 25-11 6-43 tenato che va a attaccare Mazzoleni spalla canestro c'è il raddoppio vincente di Nasello che fa una gran cosa il contropiede di Faziolli sbaglia ma c'è il rimbalzo segue a rimorchio Mazzoleni va a realizzare subisce fallo grande inizio di Pavia in questo secondo periodo poderoso l'allungo per la banda Baldiraghi e Miane è costretto all'avvenuto di sospensione per cercare di interrompere il dilagare Pavese 9-0 il break e andiamo in fase di commento davvero Pavia che sta producendo uno sforzo clamoroso in difesa e sta giocando lei in transizione Sì i Lakers lo chiamavano showtime il paragone è abbastanza incredibile però comunque Pavia sta davvero giocando la sua migliore pallacanestro di questo inizio di stagione e lo sta facendo dopo quattro vittorie consecutive che hanno dato davvero grande morale grande fiducia abbiamo visto come tutti compreso ad esempio Mazzolini che insieme a Fazzioli è probabilmente uno dei migliori in questo inizio di partita sta è in vantaggio 27-11 contro una formazione davvero forte che ha vinto quasi tutte le partite abbiamo ricordato prima ne ha perso solo una come tu giustamente scrivi nei tuoi appunti che io non ho letto prima ma che leggo adesso Pavia arriverà da quattro vittorie ma loro vengono da otto vittorie di fila quindi se tanto mi da tanto Pavia sta facendo una gran bella partita perché insomma Paolo prima sottolineava l'aspetto difensivo che giustamente sta facendo una differenza ma Pavia sta anche correndo molto bene il campo nel senso che non è facilissimo poi prendere e ripartire così rapidamente e sono e stanno andando molto sette perse Sette perse per San Deviniano e ovviamente sono frutto dell'intensità difensiva di Pavia e questo è già da un buon diciamo spiega bene questo vantaggio Pavese 10 a 0 il break per Pavia in questi tre minuti e mezzo davvero tanta tantissima roba per la banda Baldiraghi ora l'innesco di Tassinari per Vedovato raddoppiato selvaggiamente ma giustamente Baldiraghi chiede questo tipo di Ferocia Vedovato ha ricevuto nel cuore del pitturato scusate Tognato ha ricevuto nel cuore del pitturato ed è stato accerchiato triplicato fa lo speso da Pavia Tognato che andrà in Lunetta oltre alle sette palle perse anche 0-7 da tre punti per San Vendemiato San Vendemiato che sta tirando male anche a cronometro fermo 1-5 di squadra per i ragazzi di Marco Mian Sbagliato anche il secondo di Tognato quindi tappo sul canestro Pavese speriamo che duri a lungo Venucci una mezza di sparare attiva Nasello che dà un altro gran pallone in angola Fazioli che sbaglia Vedovato che tiene il rimbalzo difensivo Tassinari che parte la transizione che si prende tiro a tre punti di Preti sbaglia ma rimbalzo di Vedovato su di lui spende il fallo Nasello possibilità di 2-1 per Jacopo Vedovato torna Mirko Gloria per Spatti tiro libero addizionale a disposizione del giocatore del 1995 che va a realizzare completando quindi il gioco da 2-1 primi tre punti fatturati per la truppa trevigiana 28-14 guida sempre l'Omnia 5-51 per andare all'intervallo lungo Venucci chiude il palleggio va da Nasello in angolo da Mazzoleni gran finta attacca il canestro scarica un pallone che Gloria non controlla 8 per chiudere il possesso Pazzioli a Gloria aperto dai 5 metri pallone che viene spurtato dal ferro tiro che comunque ci stava allora Sanve che attaccherà a difesa schierata la percussione di Ricci su di lui spende il fallo e il quarto fallo di squadra Andrea Mazzoleni minuto chiamato da Pat Baldiraghi Baldiraghi è estremamente attento a evitare che la Rucker possa comunque prendere ritmo in attacco è stato fondamentale il lavoro della nostra difesa ora è fondamentale davvero riuscire a prolungare quanto più sia possibile la pressione le difficoltà ospiti nel trovare comunque fluidità è un momento in cui ovviamente San Vendemiano fatica a far canestro da tre punti detto che le statistiche di San Vendemiano comunque sono un po' particolari per una squadra che usa molto il tiro da tre punti ma che comunque tira con il 31% quindi non è che di solito comunque sia una squadra abituata a far faville in arco al contrario una squadra in cui sette giocatori su dieci sono oltre il 50% nel tiro a due punti quindi il fatto che comunque Pavia sta presidiando bene anche il pitturato sia riuscendo a creare questo effetto tonnara è assolutamente evidente nei 14 punti concessi praticamente in 14 minuti di gioco finora torna sul parquet Capitan Benedusi va a sedersi Mazzoleni buon impatto per l'ex giocatore di Ferrara uno dei tre under a disposizione di Pat Baldiraghi come sempre impatto di grande sostanza di grande impatto fisico nella metà campo nella metà campo difensiva rimasta in zona d'attacco Tassinari l'uscita di Ricci marcato da Fazzioli allarga il campo prende il pick and roll con Vedovato Benedusi che rimane sul blocco lo scarico fuori per Preti che lavora in palleggio manda però corta la conclusione in sottomano chiede un fallo dell'ex compagno Nasello arbitri che sono i signori Venturini di Lucca e di Salvo di San Giuliano in provincia di Pisa quindi coppia Toscana torna sul parquet e applauditissimo va a prendere fiato Pippo Fazzioli che ha dato il solito impatto express dalla panca 14 di margine per Pavia Mattia Venucci che supera la metà campo il consegnato per Venucci fuori da per Ture Ture marcato aggressivo da Ricci che finora non è riuscito a prendere la targa al giocatore Varesino Nasello Pavia che attacca con pazienza 7 secondi Nasello che va in avvicinamento a giocarsi in uno contro uno la sua classica soluzione buon rimbalzo offensivo di Mirko Gloria vediamo se Mirko va a giocarsi in uno contro uno il semigancho su sinistro sbagliato Cassinari che riparte sotto l'attoniato che va a cercare il mismatch con Benedusi ribalta il lato palla sul lato debole per Ricci che però non controlla è costretto a tornare fuori Preti aperto da tre punti che va a sbagliare ancora una volta l'imbalzo però di Lucatoniato ma ora grande intervento di Nasello che va a intercettare sul passaggio di Cassinari e va ad appoggiare il 30-14 4 minuti da giocare ancora altra grande giocata difensiva per Ferdinando Nasello Ricci con palla in mano qualche problema di Bolendrin ora va in percussione si prende la stoppata di Gloria quindi altro possesso offensivo per Pavia Benedusi che attende il rimorchio di Nasello evidenzia il contatto non sanzionato abbastanza incredibile perché era molto molto vistoso ora la partenza in palleggio di Preti che scarica tripla apertissima per Ricci che sbaglia anche questa 0-10 per Sanvenemiano dall'arco dei 6-65 questa era una tripla con tre metri comodi di spazio speriamo che duri e Lucci con palla in mano l'uscita forte troppo aggressiva di Ricci c'è il fallo fischiato al giocatore cresciuto nel vivaio di Pesaro e noi andiamo da Fabio esce proprio Jacopo Preti per lasciare spazio a Rossetto il capitano le due certezze oggi di Sanvenemiano non sono Tassinari e Preti come di solito lo sono per la verità tutta la squadra sta giocando non sui soliti livelli Nasello per Touré proprio per Venucci blocco di Gloria Venucci andrà in uno contro uno prova lo step back per due volte movimento che non riesce alla terza tira però tiro stoppato ma Touré recupera il rimbalzo e con un po' di fortuna riesce a realizzare altri due punti 32 a 14 11 per Momo Touré che è ritornato in campo e ha messo a riferto altri due punti ora in marcatura su Tassinari step back di Tassinari che classe si fa vedere primo squillo per lui anzi secondo per la precisione 4 punti per lui Touré sul blocco di Gloria si affida Nasello ancora per Touré altro blocco di Gloria che poi rolla ottima la palla di Touré con la schiacciata di Mirko Gloria beh che dire poi via sta giocando davvero ai suoi massimi livelli Tassinari per Ricci ancora da 3 punti anche questa in and out ed esce fallo però di Mirko Gloria che a rimbalzo spinge Vedovato che avrà due tiri liberi visto che Pavia è in bonus e sarà Nasello ad uscire per lasciare spazio ad Ale Spatti 34-16 con 2-22 ancora da giocare in questo secondo periodo Vedovato che sbaglia però il primo dei due tiri liberi a sua disposizione una squadra che viaggia con il 70% in stagione 2-8 per adesso segna il secondo 34-17 Benedusi si affida a Spatti ancora a Benedusi un po' di pressione da parte degli ospiti con Tognato che adesso agisce da numero 4 e si occuperà di Spatti ora Venucci sul blocco di Gloria per Spatti che si affida proprio a Mirko Gloria che dovrà provare a sfruttare il mismatch con Rossetto e ottimo ancora il semigancio di Mirko Gloria che adesso sta dominando sotto i tabelloni è questo che Baldiraghi chiede al suo lungo di essere incisivo di essere intenso ora Tassinari appoggia al vetro ma sbaglia e allora Venucci può distendersi in contropiede per Benedusi mamma mia che palla di Benedusi per Touré 38-17 Basca e Champagne Tassinari si affida a Vedovato anche qui ottimo lo scarico per Rossetto che sbaglia Vedovato sbaglia anche lui nel tap-in e allora ancora Venucci ha impostato una nuova azione blocco di spatti troppo vicino però Gloria che lo infastidia che lo ostacola ancora palla nelle mani di Venucci per Gloria passaggio bowling fuori per Benedusi che dovrà attaccare in uno contro uno palleggia resto tiro di Benedusi che va a due centimetri dalla realizzazione però sbaglia ultimo minuto in questo secondo quarto Pavia in controllo ora Ricci sul blocco di Vedovato che ritrova sotto canestro contro Momo Touret che ha già due falli ricordiamolo semigancio di Vedovato morbidissimo e molto efficace 38 a 19 ora Venucci ad impostare con 30 secondi sul cronometro blocco di spatti palla per Benedusi fallo entrerà Filippo Fazioli e probabilmente uscirà proprio Momo Touret che come ricordavamo prima ha due falli Pabaldiraghi vuole evitare che spenda il terzo in fase difensiva nell'ultima azione saranno nel frattempo due tiri liberi per Benedusi rientra anche Jacopo Preti per l'ultima azione d'attacco quella che presumibilmente sarà l'ultima azione d'attacco Benedusi sbaglia il primo e ne avrà un altro a sua disposizione il secondo va a bersaglio più 20 per Pavia e ultima azione per gli ospiti palla a Ricci che aspetta pronti due blocchi per lui sfrutta quello di Preti Tassinari che lucra un fallo da Venucci saranno altri due tiri liberi come ricordavamo in precedenza Pavia e anche la Lucchia sono in bonus Pavia poi avrà otto secondi a sua disposizione per tentare di realizzare Tassinari una Pavia che abbiamo detto ha fatto tutte le scelte giuste ha difeso con grande intensità cosa si può chiedere di più niente prendere una teca frizzarla e tenerla così ok avremmo voluto che fosse ancora più lungo il secondo periodo perché è chiaro che Pavia sta giocando una partita perfetta San Vendemiano ovviamente sta facendo tutto malissimo e quindi la speranza ovviamente è di prolungare questo momento degli ospiti razionalmente ci dovrebbe essere una reazione da parte di San Vendemiano anche perché non potrà continuare a tirare con queste cifre imbarazzanti le cifre dicono 21 punti fatturati 8-16 da 2 0-11 da 3 punti 5-11 a cronometro fermo prima di chiudere andiamo a riepilogare quelli che sono i tabellini allora per Pavia sono un punto per Benedusi 6 di Gloria 7 di Fazzioli 2 di Spatti 5 di Venucci 13 di Tourè 3 di Mazzoleni 2 di Nasello quanto riguarda gli ospiti sono 8 di Tassinari 2 di Ricci 2 di Preti 8 di Vedovato 1 punto per Gatto dal Parlavizza è tutto ricordando il parziale metà gara 39 a 21 ci risentiamo per la ripresa dell'ottilità tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Parlavizza davamo un'occhiata alle statistiche Pavia 12 punti prodotti dalla panchina contro uno degli ospiti 22 punti fatturati in area dalla truppa di Baldiraghi cifre interessanti presente in tribuna e sta portando benissimo Riccardo Crespi ex lungo dell'Omnia attualmente a Ozzano sta facendo una grande stagione il nostro ex giocatore Baldiraghi va con il quintetto dei pretoriani quindi Venucci Tourè Benedusi Spatti e Mirko Gloria vediamo le scelte di Mian che ha tenuto per un lunghissimo conciliabolo i suoi negli spogliatoi sicuramente insoddisfatto di quello che è stato il primo tempo i primi 20 minuti di gioco della truppa trevisiana che è arrivata a Pavia con un record a prova di bomba e nei primi due quarti ha davvero faticato moltissimo ora è ancora molto lungo 18 punti sono 18 punti quindi un margine buono diciamo ecco cerchiamo di essere scaramantici tutto pronto a riprendere Sanvedemiano che va con Tassinari Ricci Vedovato Preti e Tognato Tassinari che va a occuparsi ancora una volta di Mattia Venucci che supera la metà campo ora l'uscita di Momo Tourè che riceve in questo momento prende il blocco di spatti vada Gloria all'end off con Venucci poi la rollata di Gloria che non viene premiata vada Tourè che attacca deciso scarica pallone per Benedusi palla che finisce però diretta verso la panchina di Sanvedemiano quindi prima palla persa per i ragazzi di Pat Baldiraghi in questo incipit di terzo periodo primo attacco per gli ospiti la truppa bianconera che va con il palleggio di Ricci che ha spazio spara da tre punti sbaglia e ci auguriamo che ovviamente la striscia di Ferri dall'arco di 635 possa proseguire prima o poi dovrà rompere il ghiaccio ora tentativo di innesco di Gloria colpo di testa di Vedovato e spalla che viene intercettata e recuperata ringraziamo Barzo per l'assist Preti spalla canestro ottimo l'extra possesso per Vedovato che va a realizzare ha preso posizione profonda 39-23 il vantaggio Omnia 8-56 trascorsi in questo terzo periodo Benucci fuori Ricci che prova ad andare molto molto aggressivo ora vediamo se lo show di Vedovato palla per Touré Spatti che può attaccare il mismatch vediamo se andrà in avvicinamento però c'è la buona chiusura sulla linea di fondo e c'è l'infrazione di Spatti calpestato la riga buona la chiusura difensiva di Toniatto e Baldiraghi che è molto puntuale a chiamare subito il summit non ha gradito il primo minuto e mezzo dei suoi e ovviamente vuole parlarci sopra sentiamo fin da qui le urla e Barzo esatto ricordaci qualche aneddoto ah beh qua potrei stare a parlare per delle ore sugli aneddoti e sui minuti di Baldiraghi che a volte mi hanno visto protagonista ovviamente in negativo ovviamente no tra l'altro constatavo prima nella prima parte quando le cose andavano abbastanza in scioltezza che Baldo io ormai sono passati vent'anni e devo dire che in vent'anni è rimasto esattamente uguale cioè urla allo stesso modo dice più o meno le stesse cose quando urla e cioè insomma la gestualità è la stessa è meravigliosa mi manca mi manca venire a vedere un allenamento in cui lancia un pallone rinviandolo con i piedi in tribuna ma l'ultima volta che gli chiesi questa cosa mi disse no ma mi sono calmato eh vabbè certo vediamo ora se l'effetto time out avrà un positivo shock sui lupi pavesi intanto provano ad andare più aggressivi a mettere un po' più di pressione sulla palla Ricci supera la metà campo va da Preti aperto vedovato che ribalta il lato per Tassinari Antoniato potrebbe giocarsi uno contro uno ribalta invece il lato per la tripla di Jacopo Preti che scheggia il ferro Preti che poi prova a tenere vivo a rimbalzo d'attacco però il pallone viene recuperato da Mattia Venucci quindi Pavia che può andare in attacco stanno per essere bruciati i primi due giri di orologio il fallo di Ricci che prova ad andare aggressivo su Motore primo fallo di squadra per la Rucker secondo fallo di Ricci secondo per l'ex giocatore di Giulia Nova Spatti che riceve il consegnato con Mattia Venucci che prende il blocco di Gloria poi però non riesce ad innescare il lungo siciliano si continua a lavorare per linee esterne Touré il Bolendli si prenderà una soluzione forzata ma realizza anche questa oggi davvero inarrestabile Momo 41-23 15 per Momo Touré che davvero ha messo di tutto oggi Tassinari che lavora dal palleggio ottima la smazzata per Vedovato fallo terminale di Spatti per Spatti è il secondo fallo personale secondo fallo due tiri a disposizione di Jacopo Vedovato unico giocatore in doppia cifra per i bianconeri va a realizzare sono 11 per Vedovato 12 per Vedovato che per la prima volta dal topo Tassinari ora altro accenno di Zompress Venedusi che supera la metà campo però perde palla sull'intercetto di Ricci che va a realizzare la stoppata di Spatti arriva con il pallone già in parabola discendente 41-27 quindi mini rientro per gli ospiti era ovviamente ampiamente messo in preventivo che gli ospiti approcciassero con un po' più di garra questo terzo periodo 2-6 il parziale che sorride alla Ruccher in questi primi tre minuti di gioco del terzo periodo il palleggio di Venucci una mesita di andare da Spatti che riceve in questo momento può attaccare scarica fuori per la tripla aperta di Benedusi che manda corto però la soluzione dai 6-75 6-59 da giocare Ruccher che torna in attacco Tassinari che attiva il collegamento col pitturato c'è lo sfondo di Ricci che ha preso posizione contro Venucci bravo Mattia ancora una volta a far vedere a evidenziare lo sfondo terzo fallo per Ricci e infatti si prepara il numero 12 Tognacci Ricci che va in panca Mian non in sintonia con la valutazione dei signori in grigio Toscani recupero per Pavia Sanve che prova ancora una volta alzare la zone press rimane in effetti a zona sembra poi cercheremo di leggerla Ture fuori da spatti che ha una buona soluzione da due punti sbaglia ma Gloria fa valere il fisico a rimbalzo d'attacco c'è il possesso extra per Omnia 9 secondi per chiudere il possesso 14 di margine per il branco di Pat Baldiraghi la ricezione di spatti autostrada per lui va al ferro il giocatore di Gavardo sbaglia però Gloria non riesce a tenere vivo rimbalzo d'attacco questo c'è la transizione chiusa con la rollata al ferro di Vedovato 41 a 29 sembra addirittura un accenno di 1-3-1 sembrerebbe questa la scelta di Mian poi sono degli adeguamenti adesso sembrava poi chiusa a metà campo ora c'è l'intercetto di Toniato che va per un altro contropiede va a inchiodare Pavia che si è incartata sulla zona allungata a tutto campo 41-31 10 di margine per Pavia avevamo detto che ovviamente mancava ancora una vita e non si può accullare sul vantaggio per quanto ampio Benedusi mette palla per terra da Venucci sarà costretto a inventare brutto il passaggio arriva un'altra palla persa a memoria direi tre palle perse in fila per Pavia doppio chiambo chiamato da Baldiraghi fuori spatti dentro Nasello fuori anche Benedusi torna sul parchè Pippo Fazioli ora Rucker che ovviamente ha preso un buon abbrivio Tassinari che supera metà campo va da Preti Bedovato molto fuori per il numero 12 Tognacci a premiare il taglio di Tassinari che poi torna indietro marcato da Fazioli c'è l'uscita forte di Gloria il flottaggio di Tourè la buona uscita di Nasello che va a intercettare evidente il tocco di Nasello però gli arbitri non se ne avvedono quindi possesso che doveva vediamo se gli arbitri si correggono onestamente era tutta la vita palla per San Vendemiano tocco di Nasello sulla tripla di Tognacci e in effetti arriva la doverosa correzione 10 di immagine per Pavia che si chiude in difesa 41 a 31 2.10 il parziale in questi primi 5 minuti Pavia che si è piantata ha perso troppi palloni sulla pressione sulla zone press ospite Tassinari che riceve va a prendersi una soluzione complicata ma scadono i 24 secondi quindi Tassinari che muore con palla in mano e ora Pavia deve fondamentale che trovi il canestro Momoture con palla in mano ovviamente per riportare per riallargare la forbice parla le mani di Luca Togniato marcato da Ture Tassinari che prende il blocco di vedovato che rolla c'è la buono show di gloria tira 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 punti aperto ma Tognacci sbaglia il jumper in angolo Tavia che può ripartire Venucci che spara la seconda di fila e va a realizzare che giocatore che giocatore Mattia che giocatore squadra in difficoltà ci pensa lui due traccianti e San Vendemmiano ricacciata a meno sedici 47-31 Fabio chapeau sì abbiamo poche parole perché Mattia ce le toglie sempre di bocca ricordiamo che Mattia è arrivato a questa partita con una serie anche lì importante di canestri contro Crema ma ovviamente i 22 punti contro Crema non sono sono solo la punta dell'iceberg perché comunque Mattia continua a migliorare di volta in volta e i tifosi di Pavia che continuano a cantare perché adesso riciclando il coro dei tifosi dell'Inter indirizzato a Ronaldo il fenomeno adattandolo adattandolo a Mattia Venucci Luis Nasario Venucci lo possiamo ribattezzare abbiamo trovato il soprannome che cercavamo adesso riprende il gioco Pavia comunque non deve cullarsi su questi canestri di Venucci soprattutto perché gli ospiti hanno messo in campo questa zone press che si adatta proprio a zona vera e propria nella metà campo difensiva ora Tassinari per Jacopo Preti che non si è ancora visto in questa partita Tassinari per Tognacci chiede chiede palla sotto Vedovato che però non riceve Tognacci in uno contro uno ottima la difesa di Momo Touré ancora una volta e allora Venucci sul blocco di Nasello richiede il blocco di Gloria che arriva in questo momento uno contro uno contro Preti lo attacca fronte canestro palla per Gloria intercetto però della difesa e rimessa ancora per l'Omnia esce Tognacci entra durante Tognacci che forse è uno dei pochi sottotono in questa ripresa per i suoi rimessa affidata a Filippo Fazioli Baldiraghi si affida ancora una volta al doppio playmaker fallo in attacco la decisione degli arbitri fallo di Momo Touré ed è il terzo fallo se non ricordiamo male questa non ci voleva perché Toré stava anche lui tenendo a galla i suoi vuol dire che però lo lascia in campo ora dovrà stare più attento e verrà molto probabilmente attaccato in uno contro uno da Tognato durante sul blocco di Vedovato riceve proprio Tognato palla sotto a Vedovato che si affida proprio a Durante uno contro uno batte Venucci troppo facile questa soluzione ora Venucci ad impostare aspetta l'uscita di Touré ben marcato proprio da Tognato Venucci continua a spostarsi in palleggio grande pressione difensiva mamma mia che assist mamma mia che assist dietro la testa di Mattia Venucci per i due punti di Nasello Tassinari subito in transizione forse in frazione di passi non ravvisata ora Jacopo Preti si svita non va il canestro però canestro che arriva di Vedovato che prende la rimbalza sulla testa di Gloria canestro e fallo fallo proprio di Gloria ora doppio cambio uno per parte esce proprio Preti fuori partita quest'oggi entra il numero 11 Gatto esce anche Momo Touré e rientra Andrea Mazzolini che ha dato un ottimo contributo nella prima parte di gara adesso sarà un tiro libero aggiuntivo per Vedovato che può rincarare il suo bottino sono 17 per lui davvero grande prova per lui Pazzioli supera la metà campo con il brivido Venucci da tre punti ancora Mattia Venucci ancora Mattia Venucci 52 36 adesso palla sotto proprio per Gatto uno contro uno fallo però di Mazzolini prima dell'infrazione di passi 52 36 quando mancano 2 33 alla fine di questo terzo periodo alla prossima tripla di Mattia Venucci verrà giù il palazzetto molto probabilmente speriamo non letteralmente visto che non è messo benissimo grazie Fabio per l'assist questo era facile proprio un lay up in solitaria è messo in zona d'attacco per la Rucker Vedovato piazza il blocco poi rolla e va a piazzare un schiaccione e c'è il fallo inutile di Mazzolini Vedovato è arrivato come un tiro in corsa quindi quarto fallo di Mazzolini soprattutto libero aggiuntivo inutile concesso a Vedovato Vedovato che sta confermando tutto quanto si dice di lui un giocatore estremamente di grande sostanza molto roccioso fisicamente imponente che non fa tantissime cose ma quello che fa lo fa comunque davvero bene Vedovato con l'addizionale va a realizzare sono 20 per lui 52 a 39 Rucker che è tornata vicina e ora torna ad aggredire Mazzolini in appoggio a Venucci supera la metà campo c'è il fallo di Rossetto terzo fallo di squadra per i trevigiani ovviamente chiediamo scusa non abbiamo ancora ricordato che San Vendemiano è il paese di origine di Alessandro Del Piero scusate se è poco ci consentirete questa parentesi visto che abbiamo parlato di Ronaldo ma insomma a proposito di fenomeni ora c'è il tentativo di gioco a due tra Spatti e Venucci c'è il tocco il tekel della difesa ospite quindi presentato a 14 il cronometro 2.13 da giocare 52 a 39 durante che marca faccia a faccia Venucci Venucci che va per le terre Spatti aperto in angolo va a mettere un canestro importante è importante ovviamente che in Omnia tornino a vedere il canestro anche i compagni non solo Venucci la sua terrificante raffica dal perimetro 54 a 39 quindi 15 vantaggio per Pavia ora durante buona penetrazione che mette in ritmo il numero 8 Rossetto che sbaglia rimbalzo offensivo di Gatto sbaglia da 3 punti anche durante la fisicità di Vedovato però si fa sentire e Masello non riesce a tenere vivo il pallone quindi palla che rotola fondocampo rimessa in zona d'attacco per i bianconeri ospiti Vedovato per Gatto si torna fuori da Tassinari Vedovato che prende posizione nel cuore del pitturato contro Nasello riceve gran lavoro di Nasello che va vicino all'intercettor a raddoppio di Venucci e fallo fischiato a Venucci pubblico che si arrabbia ma fallo che ci sta la via che in bonus da qualche minuto quindi sono liberi per Vedovato Vedovato che ha sicuramente aggiustato le sue cifre 6-7 dalla linea della carità quindi ha contribuito a migliorare quelle di squadra che non erano granché paralizzare nonostante questa terrificante gufata che gli abbiamo tirato 14 di vantaggio per Lommia ecco la gufata scoppio ritardato che va a bersaglio Venucci che controlla il rimbalzo d'attacco sull'errore nel secondo personale va via che riesce a superare la metà campo ora San Benemiano che si chiude comunque in difesa faccia faccia Mazzoleni l'end off con Venucci ora marcato ragatto che con le sbraccia lunghe ora va al contatto falloso quarto fallo di squadra per San Benemiano quarto fallo per Gatto rientra Jacopo Preti per la truppa di Marco Mian si cercherà ovviamente Mattia Venucci che prende il blocco di spatti torna da Asello palla che ritorna ovviamente Pavia adesso non deve esagerare la ricerca di Venucci Venucci che va con la camerariata la sbaglia ribalzo controllato da Tassinari Preti che batte Mazzoleni va a sbagliare e poi va a commettere il fallo di sfondamento sul vecchio compagno di squadra Nasello che ha preso una eccellente posizione difensiva secondo fallo per Preti minuti di riposo per Venucci che ha fatto in questo quarto ampiamente pentole e coperchi torna Momo Touré sul parquet Samba che ci prova ancora ad aggredire a tutto campo Pazzioli sempre con la sponda di Mazzoleni supera la metà campo palla le mani di Momo Touré va da Nasello Pazzioli che chiama la L Mazzoleni che mette palla per terra va a attaccare va deciso al ferro sbaglia apprezzabile comunque la decisione magari rivedibile il tocco parte a tutto Tassinari si arresta chiude il palleggio costretto a tornare fuori da Jacopo Preti che torna dal giocatore cresciuto nella Virtus Bologna 17 secondi per chiudere il terzo periodo Tassinari che spara la tripla in faccia Spatti la realizza dopo lo 0-15 prima tripla a bersaglio per la Rucker che va a 1-16 54-43 Nasello che perde la maniglia c'è il tocco della difesa Rucker un secondo e 66 centesimi cambio chiamato Damian che cambio pallavolistico con l'impronunciabile Vrugovic che andrà ad alzare il muro in difesa vediamo chi sarà l'incaricato di spedire quest'ultima preghiera 54-43 Nasello sarà Turei che va a 2-2 sontuoso sontuoso Momo sontuoso 56-43 Turei ha messo solo canestri così solo canestri con quell'attimo di pressione con quell'attimo di percentuale di forzatura e andiamo diciamolo visto che domani sarà ospite dei ragazzi di basket alla media diciamo che sta facendo una partita con i controfuocchi proprio per quello giusto Barzo? Mi viene a pensare che possa essere così probabilmente perché sentiva la pressione della mia presenza ma a parte a parte questo un'ottima partita di Momo l'hai detto tu è stato sempre sempre decisivo 17 punti 7 su 10 da 2 1 su 1 da 3 punti 14 di valutazione se non leggo male sicuramente decisivo questo canestro la ciliegina su una partita fin qui sicuramente anche difensivamente molto molto tosta la parte del giocatore di Pavia Pavia che ha faticato molto in questo in questo quarto come diceva Paolo prima dell'intervallo prima dell'intervallo prima dell'intervallo alla fine dell'intervallo del secondo quarto è stato un prevedibile ci fosse un rientro da parte di la parte di San Vendemiano però Pavia è riuscita con la difesa a tenere in piedi la situazione intanto ci fanno anche le foto e grazie anche al fotografo della provincia Pavese Giorgino Garbi che ormai d'altra parte era in preventivo che questa telecronica finisse un po' in vacca non spesso assolutamente messo in preventivo 56-43 il parziale a tre quarti gara la via che tutto sommato chiude con 17-22 il parziale di questo terzo periodo riuscendo a limitare i danni e a mantenere comunque un discreto margine discreto margine adilaghi che riparte con Ture Mazzoleni Spatti Nasello e Faziole quindi ovviamente con minuti di prezioso ossigeno per il suo uomo di maggior qualità al secolo Mattia Venucci Rossetto per Tassinari buona la posizione interna di Vedovato che subisce un contatto ma è il classico giocatore Veneto scolpito nel marmo e senza battere Ciglio va a realizzare 11 di margine per l'Omnia che va a giocarsi il primo possesso offensivo Faziole va da Ture una mezza di sparare a tre punti invece vede il taglio di Spatti lo premia Spatti che sbaglia rimbalzo va vedovato parte la transizione Preti rapido c'è il buon rientro difensivo di Mazzoleni che nega comunque 1 contro 1 Preti ora dietro la schiena Tassinari per Preti soluzione dei due punti morbida e va a realizzare il giocatore Imolese 9 di margine per Pavia con questo 4 a 0 ospite 56 a 47 Spatti per Ture ovviamente Venucci che prontissimo torna sul cubo dei cambi Spatti per Mazzoleni che attacca il ferro scarica da Faziolli che rinuncia a uno tiro va da Ture 6 secondi gran partenza in palleggio di Momo che prende il fallo di Vedovato Momo sta andando al ferro davvero come un caterpillar 2 tiri liberi di una discreta importanza quelli che Ture va a prendersi per cercare di muovere il fatturato dell'Omnia panchina per Fazioli torna Mattia Venucci Momo Ture va a realizzare il primo tornano 10 di margine va a realizzare anche il secondo sono 19 per Momo Ture in casa Omnia 11 di vantaggio per Pavia e noi siamo pronti a tornare da Fabio si stavo dicendo a Marco che Preti ha segnato il suo secondo canestro della partita e quindi non bisogna farlo sicuramente entrare nel ritmo perché sappiamo che il giocatore sia Vedovato invece sta continuando a martellare adesso però è uscito dal campo quindi Pavia ha l'occasione di aumentare il suo vantaggio che adesso dice più 11 Venucci sul blocco di Nasello che ritrova sotto canestro uno contro uno contro l'ossetto quasi gioco da tre punti sferato il 2 più 1 avrà comunque due tiri liberi a sua disposizione ecco abbiamo appena detto Vedovato è uscito invece Gatto compie il suo quinto fallo peggio per Pavia che rientra appunto vedovato esce anche Durante e rientra Ricci che è da un po' di tempo che non calcava il parquet per la verità oggi Ricci non ha giocato un'ottima partita sono 4 punti per lui si è sbattuto molto in difesa ma in attacco ha sparacchiato soprattutto da 3 punti con un 0 su 5 Nasello che sbaglia il primo tiro libero realizza con l'aiuto del ferro il secondo e allora adesso Tassinari che si incarica delle operazioni sul blocco di Jacopo Preti spara una triple in transizione che talento Tassinari ma che talento anche Mattia Venucci che però la si spera per Nasello non arriva visto che Nasello si mangia il contropiede Venucci però ottima difesa contropiede per Pavia che perde un altro pallone dopo l'errore di Tassinari adesso un po' di confusione sono andato in confusione anche io in telecronica Ricci adesso si incaricherà di rimettere la palla in campo è uscito proprio Ferdinando Nasello rientra Mirco Gloria per tentare di limitare sotto le plance Vedovato ristabilita la calma Tassinari imposta sul meno 9 aspetta l'uscita di Ricci riceve però proprio Vedovato uno contro uno contro Gloria se la può giocare ma Gloria ottima difesa di Gloria che lo stoppa e Vedovato compie inflazione di passi oggi Mirco Gloria sta veramente giocando una solida partita contro un avversario non semplice da marcare Vedovato ha già dieci rimbalzi anzi undici per la precisione doppia doppia 23 più 11 Guardia invece ne ha otto con sei punti a referto rientrato anche Benedusi nel frattempo palla quasi persa per Pavia Venucci che si affida a Spatti sotto canestro Vedovato Vedovato fa buona guardia per iperno di Spatti che tenta la riapertura a Benedusi intercetto di Ricci allora Pavia avrà 5 secondi per provare a concludere a canestro Benedusi si affida a Spatti i secondi passano Spatti dovrà forzare soluzione che non va a bersaglio e allora Ricci contro Momo Touret Jacopo Preti da 3 punti tabella e ferro e fuori non va quindi la conclusione del numero 17 della Rooker e allora è ancora Venucci ad impostare Touret aspetta il blocco di Spatti palla per Gloria palla a sua volta per Venucci Venucci si affida a Spatti uno contro uno di Spatti che però non va a bersaglio in penetrazione e allora sul cubo dei cambi è pronto subito Nasello Momo Touret ancora solidissimo in difesa lancia lungo per Venucci che fa saltare l'avversario e deposita per il più 11 time out di San Vendemiano vabbè ragazzi non abbiamo più parole per Venucci ma nel complesso abbiamo visto anche una pavia che sta tornando a difendere soprattutto con Momo Touret beh Touret l'ha sottolineato prima Marco al di là delle meraviglie che sta facendo in attacco li abbiamo visto prima nel terzo periodo reggere un contatto pazzesco con Toniato che ha un fisico da culturista adesso è andato comunque su una palla vagante e alla fine Momo è un giocatore davvero di doppia dimensione a livelli di eccellenza perché comunque consente a Baldiraghi anche di fare del lavoro in cambio difensivo riuscendo a reggere il confronto fisico con giocatori sicuramente più alti e diciamo più grossi di lui non tantissimi considerando la massa muscolare del giocatore di Angera comunque al di là di tutto diciamo che la cosa più importante è che il cronometro continua a correre sono 6.29 ai titoli di coda e sono comunque 11 di vantaggio che non è poca cosa San Vendemmiano sta entrando in partita non è sicuramente nella migliore giornata troppi protagonisti sotto tono però sta cercando di produrre il massimo sforzo difensivo e comunque Vendemmiano sotto è sicuramente una brutta gatta da pelare Mirko Gloria prima ha tenuto bene lo ha stoppato è riuscito a reggere quindi è chiaro che Gloria ha il fisico per tenerlo quello che a volte latita è la presenza mentale la concentrazione la cattiveria ecco quello che a volte difetta in Mirko se è settato al 100% può assolutamente riuscire a contenerlo Sanve che torna in possesso di palla ad attaccare Rossetto che va da Tassinari Tassinari che mette palla per terra batte Benedusi va ad una soluzione complicatissima viene beffata dal ferro ma questo è un talento davvero purissimo Pavia che controlla quindi riesce a limitare i danni e torna a schierarsi in attacco Venucci al palleggio prolungato ovviamente Pavia che giocherà anche un pochino col cronometro prende il blocco di Gloria spara tre punti Mattia sbaglia rimbalzo controllato da Rossetto Tassinari marcato faccia a faccia dall'agente speciale Touré tripla aperta per Ricci che sbaglia anche questa buono il tagliafuori di Nasello che prende posizione e controlla il rimbalzo Ricci che prova a fare un po' di scena marcato cercando di lucrare un fallo da Venucci ora ancora una volta va a forzare il blocco di Nasello e arriva invece il contatto falloso di Jacopo Preti sulla percussione di Mattia Venucci quarto fallo di squadra per la Rucker due tiri liberi per Mattia Venucci va a prendere fiato Tassinari torna Durante due soluzioni a cronometro fermo per il Folletto di va a realizzare il Folletto Toscano giocatore del nel 1990 macchina da guerra cronometro fermo ha sbagliato tre tiri liberi dall'inizio del campionato al 93% Mattia finora ovviamente l'ho detto adesso tripla sbagliata ma Mirko Gloria che non riesce a controllare Ricci che si prende una percussione la sbaglia vorrebbe un fischio arbitri che non lo premiano Gloria che va a catturare la palla vagante 13 di vantaggio per Pavia si entra negli ultimi 5 giri di orologio Turè con palla in mano va da Gloria l'end off con Venucci un paio di finte di Mattia 7 secondi altro blocco si va da Turè che mette palla per terra attacca Ricci va a realizzare anche questa che partita di Momo 21 per Momo Turè 15 di margine per Pavia pazzesca partita del duo Venucci-Turè i due califi hanno davvero fatto una partita con i controfiocchi sbaglia Capitan Rossetto Venucci che controlla rimbalto Pavia può tornare in attacco 4 minuti corre, corre, corre il cronometro 15 di margine altro contatto falloso ovviamente per cercare di negare la ricezione a Mattia Venucci numero 17 preti quarto fallo per Jacopo Preti doppio cambio per Mian dentro Tassinari e Toniato fuori Rossetto e Ricci Ricci e Rossetto Rucker che va in bonus rimessa in zona d'attacco Capitan Benedosi ad occuparsene la ricezione di Nasello che chiama passa a Venucci l'hand off con il numero 11 prende il blocco di naso ora il crossover lo stopback di Venucci che sbaglia palla sputata dal ferro tifosi che esultano ormai quando Venucci alza la mano Preti che mette falla per terra attacchi in avvicinamento sbaglia rimbalzo indovinate di chi Vedovato che lucra un altro fallo e saranno due tiri liberi 13 13 per Vedovato a 23 davvero tanta tanta roba per il per il giocatore ex Virtus Roma chiamata Roma da Fabio Corbani Vedovato che va a realizzare 65 a 51 14 di margine per l'Omnia 3,49 Vedovato che fa 2 su 2 e Rucker che prova l'ultimo sforzo però ancora una volta ad allungare a tutto campo la difesa Venucci chiude il palleggio si va da Nasello Pavia riesce a superare la metà campo 16 secondi per chiudere il possesso 3,38 per i titoli di coda Venucci in palleggio Venucci che prova l'indesco interno per Nasello tiro due punti di Mirko Gloria ottimo 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 la soluzione ottavo per Mirko da due punti Gloria che oggi ha colpito allontanandosi dal canestro con Vedovato che non lo ha seguito ora Gloria buona difesa per negare la ricezione al numero 2 ospite parla le mali preti che chiude il palleggio la penetrazione forte al ferro con l'errore di Durante e sulla palla vagante non controllano i pavesi quindi ultimi tre giri di orologio Pavia avanti di 15 67 a 52 toniato per Tassinari tripla da 9 metri che sbaglia rimbalzo controllato da Mirko Gloria 2.58 sono i possessi decisivi per mettere la partita definitivamente in ghiaccio palla le mani di Mamoture per Nasello Benedusi l'uscita forte di Venucci che non viene servito si va da Nasello 6 secondi Venucci che sarà costretto a fare un numero finisce il campo finisce il campo quindi rimessa per San Vendemiano ma intanto sono 2.37 e i secondi corrono 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 67 a 52 Tassinari supera la meta campo corre dei tifosi pavesi ora il numero 0 che prova un altro canestro di talento va a sbagliare 2.20 noi per Scaramanzia ovviamente non diciamo ancora niente vediamo parleremo solo se Pavia andrà a realizzare vediamo questa scommessa Venucci che prova a lucrare un fallo su Preti va da Nasello 4 secondi Nasello prova l'extra pass per Gloria c'è il tocco della difesa ci sono 2 secondi per chiudere il possesso dentro Pippo Fazzioli per Venucci stand innovation per Mattia che chiude con 18 2 su 4 da 2 4 su 8 da 3 punti 2 su 2 in Lunetta 2 assist e 5 falli subiti Nasello aperto da 3 punti ma scadono scadono i 24 67 a 52 1 e 59 Sanvenemiano che va a ragionare ora non vorremmo esagerare ma sarà importante comunque anche giocare nell'ottica dello scarto che per il momento con questa partita che ormai consideriamo in ghiaccio con il canestro di Benedusi Pavia è a meno 4 da Sanve ma ovviamente l'auspicio di tutto il pubblico pavese è che questa forbice si possa ridurre quindi sarebbe importante comunque vincere con un scarto piuttosto sostanzioso 69 a 54 1 e 31 durante con palla in mano da Vedovato che affida a numero 12 Tognacci si prende un tiro piuttosto complicato e lo sbaglia rimbalzo controllato da Benedusi ora 1 e 19 Pavia che archivia la quinta vittoria in fila e nella quinta vittoria dal peso specifico enorme perché la capolista è stata letteralmente dominata qui in via Treves ricordiamo forse un meno 9 come minimo margine di rientro Gloria si prende un tiro di svitamento sbaglia Benedusi va rimbalzo cross da posizione impossibile e pubblico di Pavia che si alza tutto in piedi per applaudire l'omnia di Pat Baldiraghi una squadra che ha lavorato a testa bassa dopo le difficoltà di inizio campionato e ora finalmente in granato una squadra che difende con una cattiveria con un'efficacia clamorosa anche oggi la capolista è una squadra che fattura 72 punti a serata viene tenuta signori a 56 punti avete sentito bene 56 punti quindi chapeau chapeau per Baldiraghi chapeau per tutti i suoi ragazzi ancora una volta la vittoria del collettivo minuti di campo anche per Luca Botteri importante in allenamento vediamo se Fazzioli riuscirà ad attivarlo per sparare la tripla Fazzioli che controlla 7 secondi per chiudere Benedusi spara da 3 punti sbaglia 23 secondi Botteri che va a spendere il proprio primo fallo disegna una voce statistica fallo tattico tra l'altro come giustamente i miei due colleghi sottolineano visto che Pavia non è ancora in bonus Vedovato che prova a irrobustire sono 27 per Vedovato 69 a 58 7 secondi si chiude con palla in mano trionfobia 69 a 58 il commento l'abbiamo ampiamente anticipato anche la capolista Pagadazio qui in via Treves trasferta sabato prossimo a Piadena e poi Derbissimo prossimo appuntamento in casa il 22 per Pavia una Pavia che davvero continua a confermare questi interessantissimi progressi andiamo a riepilogare il finale 69 a 58 7 di Faziolli 5 di Nasello 3 di Benedusi 8 di Gloria 3 di Mazzoleni 18 di Venucci 21 di Ture 4 di Spassi quanto riguarda gli ospiti sono 4 di Durante 27 di Vedovato 4 di Toniato 4 di Ricci 1 di Gatto 4 di Preti 14 di Tassinari dal Palavizza probabilmente dopo la miglior esibizione stagionale per l'Omnia Pavia diamo la più cordiale buonasera da Paolo Rappoccio e Fabio Sacchi e Marco Barzizza guest star di serata grazie arrivederci a tutti appuntamento con il Derby non c'è Derby grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti